9 incidenti intorno alle 17 in piena Ravenna, lungo via Adolfo Bellucci, proseguimento della circonvallazione Canale Molinetto, un urto fra una scooterista Ravennate e una Peugeot con a bordo una coppia locale, che ha visto avere la peggio il motociclista. La polizia municipale a corsa sul posto sta ascoltando i testimoni dell'accaduto. I due veicoli, all'altezza dello svincolo che consente la svolta a sinistra dopo l'incrocio con via Nicolodi, si sarebbero urtati. L'auto, intenta svoltare, è stata tamponata dallo scooter, uno scontro che ha causato la caduta del motociclista a terra con la moto che ha strisciato sull'asfalto per un paio di metri. Fortunatamente le sue condizioni si sono subito rivelate poco preoccupanti a bordo di un'ambulanza del 118 a raggiunto il pronto soccorso Ravennate. Sul posto sono intervenute due volanti della municipale che hanno evitato l'interruzione della viabilità. Federico Lega per Ravenna Web TV